Buonasera, mi scusi, ho un problema con il mio cane che tira, mi chiedevo se avevate delle soluzioni da proporre. Buonasera, abbiamo diversi prodotti che consentono di risolvere il problema del suo cane che tira al guinzaglio. Ad esempio una pettorina e seawalk, un collare canni e una museruola ad addestramento. Sono tutti dei metodi, non coercitivi, che consentono così di risolvere il problema del suo cane che tira al guinzaglio. Ovviamente in base al tipo di esigenza che ha, questo le permetterà pian piano di migliorare questa problematica. Senta, dovrai anche affrontare un viaggio in treno con il mio cane. È vero che devo portare una museruola? Sì, effettivamente è necessario che lei abbia con sé una museruola, anche se non serve che l'animale la indossi. Tuttavia può scegliere sia tra la museruola in nylon e questa classica in plastica. Mi raccomando, la tenga sempre con sé, in quanto qualora dovesse esserci un controllo potrebbe essere soggetto a multa. La ringrazio, arrivederci. Andiamo Gaia? Mi raccomando, seguite i consigli di Nova Trade per il benessere del vostro animale. Mi raccomando, seguite i consigli di Nova Trade per il benessere del vostro animale.